Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem, un saluto da Stefano Un saluto da Gabriele e oggi finalmente... Gabriele! Da Gabriele, è uscita cos'è? Comunque oggi finalmente, dopo settimane di assenza, torno a un video di unboxing Un video di unboxing dedicato ad alcuni nuovi prodotti che Funko sta rilasciando Molti di voi probabilmente magari sono già in possesso di questi prodotti Però noi, come sempre, vogliamo farvi vedere ciò che arriva E ovviamente anche la qualità di prodotti della Funko che ultimamente sta sempre migliorando Ok, ce ne sono sempre le virgole, vabbè Comunque... Apro una parentesi? No, cosa importante, nel video qua sotto nel link trovate un fantastico coupon da spendere e spandere per le blind box Esatto, troverete tutte le informazioni sotto nella info box Quindi se volete acquistare delle blind box questo è il momento giusto per farlo E quindi andate e compratene tutti ma prima... Sigla Sigla Benvenuto, bentornato sul canale Tandem Dice a me Ma dici a me Bene ragazzi, abbiamo qua due pacchetti E un paccone E una scatola che è fuori da un pacco Quindi direi che possiamo cominciare con questa Da questa? Vai, vai, vai Allora, qui ragazzi abbiamo un Movie Moments Chi è aspetta? Come chi è? Sono loro, sono loro Come balla, come gli trema il cranio Mi stavo sudando freddo Allora in questo caso abbiamo un Movie Moments che probabilmente non so se forse l'avevamo già mostrato in qualche... No No Sì Abbiamo visto anche la scena della cantina L'abbiamo visto quella Che stanno degustando dell'ottimo crino Moltissimo bello Moltissimo bello Poi abbiamo presente la scena di Leila e di Luke Skywalker dentro nella cloaca Dentro nella cloaca Sì Dentro praticamente dove c'è il compattatore E poi le due mitiche scene del duello tra Darth Fener e Obi-Wan Kenobi E poi la scena in cui Darth Fener rivela la sua vera identità a Luke Skywalker Non sono tuo padre, sono tua madre Le vedi qua all'intente Ok va bene ragazzi Quindi questo è il primo pop Il primo pop Che vi mostriamo ma adesso andiamo avanti perché quello è tutto nascosto Cominciamo con quello sito È scocciato proprio bene È scocciato proprio bene ma qui ragazzi l'importante è l'imballo esterno Comunque qui dentro questo piccolo scatolino Ce ne sono due Vuolo rompere che quella poi serve per rispedire Molto piano Vi do un indizio Deriva da una saga no Da un cartone Saga no Saga no Comunque Lui è definito Ama Le tartaroghe E stiamo parlando del genio della lampada Del genio delle tartaroghe Questa è una nuova uscita Che tra l'altro è da poco presente sul mercato Stiamo parlando del maestro Roshi Guarda come Roshi In questo caso è nella versione normale Perché c'è anche la versione con PIS Che fa così Ed è una versione esclusiva Molto molto bello da tanto tempo che lo si aspettava nella colazione di Dragon Ball Colazione? Nella colazione di Dragon Ball Pucciamolo nel biscotto Pucciamolo nel latte Pucciamolo nel latte Pucciamolo nel latte Pucciamolo nel latte Il biscotto nel tavolo E ci rovescia sopra il latte E dobbiamo dire che è fatto molto bene Vado anche con questo Con quello Vado con questo Qui abbiamo Calimero vestito da Halloween E si è vestito da Puffo incazzato Questa è una versione exclusive Come potete vedere c'è anche il bollino Perché c'è Gnapp Smurf In versione viola Invece in questo caso è nero Nero Perché probabilmente Nero carbone Perché probabilmente anche lui ha finito le vacanze Ed si è portato a casa una bella abbronzatura Questa quindi è vuota Bene ragazzi Questi sono i primi tre personaggi Composizionali Beh mica male no? Eh direi molto molto Composizione? Composizione Però dovevo dire che I movie moments A me ultimamente piacciono parecchio Anche perché ricordano appunto Quelle scene iconiche Sono tipo dei Diorama Diorama Allora in questo caso Oh no Ho fatto una cagata No 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 giusto Un Diorama Di sì Apriamo con molta cautela Questo Questo pacco E qua dobbiamo dire Che ci sono dei personaggi Veramente Cerca D'autore Veramente Belli Belli Io cominciare con questo Vai vai Posso cominciare io? Eh sì Non so cosa sia Allora Dalla serie Dalla saga Dal videogioco Di Five Nights Freddy Abbiamo il butter Abbiamo il butter Tra l'altro che se ti siedi sopra Ti fai anche male Che c'è i dentini Ti sfrega la faccia così Ti sfrega il deretano Perché praticamente Questa qua È una versione Di Bonnie Completamente distrutto Tagliato Ma però non voglio svelarvi Perché Non voglio svelarvi Sì ma è orribile È facile per un dentista Poterci Lavorare Infatti Fa felice il lavoro Del tuo dentista Anche questa ragazzi È una versione Exclusive Come il Puffo Puffo nero Puffo carbone Andiamo avanti Perché qua Abbiamo un personaggio rock Veramente rock Qui abbiamo lui Colui il cuore C'è il nome da donna C'è il nome da donna A distreggiarci Con i pepistrelli Con i pepistrelli Sul paico Vabbè comunque abbiamo Alice Cooper In versione Alice Cooper In versione Masaia Perché ci sono due versioni Una con la camicia di forza Vedi che c'è E l'altro Con la camicia Con la camicia Basta La camicia Sì sì Tra l'altro La versione è proprio Con il tight Con il tight Bianco Quindi se siete Dei cultori Della musica rock E la vostra collezione Manca di scoper Non dovete far altro Che acquistarlo Ma attenzione Perché qua abbiamo Un peso massimo Qua dovete Adesso istruirci Perché io non ho La più pallida idea Di chi sia Questo Oryx Dalla serie di Destiny Abbiamo Oryx Senti quanto pesa Senti quanto pesa Guarda quanto cavolo È brutto Veramente orribile Però nella sua bruttezza È molto bella Nella sua bruttezza È veramente Bello Però io adesso Vorrei chiararlo fuori Dalla scatola Perché vorrei vederlo Questo è uno dei pop Che dal punto di vista estetico È brutto Nel senso che proprio Il personaggio in sé è brutto Ma dal punto di vista realizzativo È bellissimo Molto molto ben fatto Guarda lo lascerei fuori Dalla scatola Questo E la scatola la metterei qua Ma attenzione Perché adesso abbiamo Una nostra vecchia conoscenza Che ritorna nuovamente Perché questo è un pop Addirittura Della San Diego Comico In 2017 E Batman Anzi È gioco Il vestito da Batman Con l'apparecchio Con l'apparecchio E sì Possiamo vedere Che ha i denti Tutti i marci Nella parte centrale Questo schifo di vuncione Sì perché dovete sapere Che alcuni fornitori Quindi non la fanco Direttamente Sta Riassortendo Alcuni personaggi E tra questi Ci sono alcuni personaggi Del San Diego Comico Tipo questo Infatti nelle blind box Che troverete Praticamente tutti i link Sotto le info box Vi potrà capitare Se acquistate appunto Le blind box Delle convention Quindi New York Comico San Diego Comico E l'Emeral Comico Di poter trovare Anche questi personaggi È molto bello Poi dalla serie No ma non si capisce Che sei vestito da Batman Tranquillo Non si capisce chi sei Però molto belli i colori Tra l'altro Questo forse l'avamo detto In un vecchio video Che è stato preso direttamente Da un utente Che segue proprio Il canale Instagram La pagina Instagram Della Fanco Perché gli aveva mandato Delle foto Di un pop Customizzato E la Fanco Ho preso l'idea Di quest'utente E non l'ha pagato Mancano ancora due pop All'appello E e e e Totini Oh qui abbiamo Ernesto Sparalesto Dal film di animazione Della Pixar Di quest'anno Ed è Coco il film Ma che bello E qui abbiamo Ernesto Bellissimo Sembra veramente morto Impolverato Eh sì Questo ragazzi È uno dei pop Che fa parte appunto Della collezione Come ha detto Gabriele Di Coco E devo dire Che tutti i pop Scheletrici A me piacciono tantissimo E poi questo è veramente Veramente Ma veramente bello Io Voglio 8 copie Sinceramente Non ho visto il C'è un piedistallo Però lui è fuori Del piedistallo Lo vedi il piedistallo Ma dai Dov'è che è il piedistallo C'è un Beh già Eh si vede che Magari il piedistallo Per tenere la chitarra Che si stacca Non lo sappiamo Dovremmo tirarlo fuori Dalla scatola Però stavo dicendo Non abbiamo voglia Che i pop scheletrici A me piacciono tantissimo Non ho visto Il film di animazione Coco Dicono tutti Che sia molto bello Bene ragazzi Chiudiamo questo unboxing Con un pop che è appena Stato rilasciato Ed è un personaggio A cui manca il socio In questo caso Iconicissimi Iconicissimi Oh Abbiamo un Tom Un Tom A cui manca Jerry Si perché hai in mano Una mannaia Cos'è che c'è in mano Un Eh si si Un coltellaccio Una macellaio Che non mi ricordo il nome Una mannaia Una mannaia Una mannaia Una mannaia Quindi ragazzi Questa è la prima realizzazione Della copia di Tom e Jerry Speriamo di ricevere Al più presto Anche Jerry E dobbiamo dire che questi Sono dei personaggi Da avere Assolutamente Perché sono immortali Iconici E ricordano la fanciulezza E soprattutto anche perché Insieme ai personaggi Dei Looney Tunes Come Silvestro Titti Bugs Bunny E Duffy Duck Assolutamente Fanno il paio Esatto Va bene ragazzi Scrivete nei commenti Quali tra questi pop A voi piace di più In assoluto E soprattutto Istruiteci su Orix Perché non sappiamo Non sappiamo una mazza Sicuramente sarà un cattivo Perché non ha l'aria del buono Però fateci sapere tutto E ricordatevi del coupon Che trovate in descrizione Qui sotto al video Sotto ai nostri Infatti Esatto Da spendere ovviamente Sul sito 2sdm.it Ma troverete tutti i link E le informazioni Sotto nella info box Nella info box Vi possiamo raccomandare Ovviamente Di andare A scrivervi Alla nostra pagina Facebook Alla nostra Profilo Instagram E di seguire tutto ciò Che accade in queste pagine Esattamente Quindi ragazzi Detto questo Ci vediamo al prossimo video Un saluto da Gabriele E un saluto a Stefano Ciao Ah, really?